Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Helbruck? No! Ah, beh... E... ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che io ho messo dentro? Non si arrabbierà, eh? No, io non mi arrabbierò! Abbi qualcosa! Abbi qualcosa? Abbi chi? Abbi norme, eh? Abbi... norme? Sono quasi sicuro che è quello il nome, eh eh eh! Ah 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 ah! Vorresti dire che io ho messo un cervello abnorme in un ergumeno lungo due metri e venti e largo come un armadio a due ante? Eh? Canaglia! E' questo che vorresti dirmi? Ehi! 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 Ehi!